Come si diventa giornalisti professionisti? Non si dice mai me l'avete chiesto in tanti, ma è un fatto che una delle domande che ricevo più nei messaggi privati è questa. Perciò ho detto, faccio un bel video approfondito raccogliendo le domande più comuni. Partiamo. Primo, come si diventa giornalista professionista? In Italia esiste l'ordine dei giornalisti che cura l'albo degli iscritti. Ci sono due tipi di giornalisti, quelli professionisti e quelli pubblicisti. I professionisti, secondo una legge del 63, sono quelli che esercitano esclusivamente quella professione, cioè lo fanno come lavoro. Per diventarlo le state sono principalmente due. La prima è il praticantato, ovvero un contratto di 18 mesi che ti viene fatto da una testata per la quale tu lavori. Complice la che si è dell'editoria però si fanno sempre meno contratti di praticantato. La seconda stata sono le scuole di giornalismo. Attenzione, quelle riconosciute dall'ordine dei giornalisti. Sono circa 12, le trovate qui, principalmente a Milano e Roma. Io ho fatto quella, la consiglio perché insegna la professione, ti fa fare listace e poi appunto ti dà accesso all'esame di stato. Vantaggio non da poco, le scuole di giornalismo costano tanto e ci sono pochissime borse di studio. Questa è una situazione che secondo me potrebbe essere migliorata. Secondo, com'è l'esame di stato? L'esame di stato è quell'esame che si fa a Roma circa 3-4 volte l'anno e che ti permette appunto di diventare giornalista professionista. Consiste in una prova scritta e in una prova orale. Terzo, come si diventa pubblicisti? Il secondo tipo di albo appunto è quello dei pubblicisti. Sono definiti come coloro che esercitano la professione di giornalista in maniera retribuita e non occasionale, ma non esclusiva. Cioè non è quello il loro lavoro. Per diventare pubblicisti bisogna dimostrare di avere collaborato per due anni con una testata e poi in base a delle regioni, alcuni ordini regionali chiedono un minimo di numero di articoli e di retribuzione. Facevo spesso delle richieste di consigli, ci sono diversi annunci di questo tipo in cui un imprenditore dice scrivi per me per due anni, ti pago pochissimo o non ti pago proprio, però in cambio ti do l'opportunità di diventare pubblicista perché appunto ti faccio dimostrare che tu hai collaborato per due anni con questa testata. Attenzione, io diffiderei da questi annunci. E qui arriviamo all'altra domanda, cosa fare se mi pagano uno o due euro ad articolo? Ovviamente ognuno fa quello che crede, personalmente diffiderei da quell'imprenditore perché non credo che quell'imprenditore che mi paga un euro o due euro ad articolo in cambio del testino, magari da pubblicista, nel futuro vorrà investire in me, vorrà investire nella mia formazione o in un mio percorso di crescita. Perciò personalmente, ovviamente se posso permettermelo, preferirei dedicare quel tempo piuttosto a imparare un programma di video editing o sviluppare un progetto mio che poi monetizzerò molto di più in un secondo momento. Quinta domanda, serve essere professionista? La legge del 1963, quando il giornalista era colui che scriveva per un giornale assunto. Sono passati 60 anni, è cambiato tanto, sono arrivato internet, sono arrivati social media, la professione è cambiata, ci sono tante persone che fanno il giornalista non essendo ufficialmente dei giornalisti professionisti. Personalmente non ho mai considerato chi avesse il tesserino migliore di altri, o giornalista appunto solo chi ha il tesserino. Tesserino che tra l'altro in nazioni con grande tradizione giornalistica come gli Stati Uniti o l'Inghilterra non esiste. Sesto, che laurea serve? Anche qui non c'è una risposta esatta, direi quella che ti interessa di più, che rispecchia le tue ossessioni. Magari nell'ambito umanistico, che può essere filosofia, scienze politiche, giurisprudenza, scienze della comunicazione. Io ho scelto scienze della comunicazione perché mi interessava la comunicazione. Corso un po' bistrattato, però non me ne pento. So di dire una banalità, però credo che la differenza più che il corso in sé lo faccia, come lo fai e come ti applichi. Settimo, troverò mai lavoro? Allora, sono i numeri che dicono che l'editoria, specie quella tradizionale, è in crisi. Vuoi per il calo delle vendite, vuoi per il calo degli investimenti pubblicitari, previsto anche nel futuro a causa pandemia e a causa tensioni internazionali. Però è anche vero un'altra cosa. Gli americani dicono che ogni company sarà una media company. E io ci credo. Cioè, ogni azienda che venda scarpe o che venda rossetti comunicherà sempre di più. E lo farà magari attraverso i propri canali, visto che ognuno è diventato un editore, attraverso i social media, attraverso il metaverso, attraverso altre piattaforme. E per farlo avrà sempre più bisogno di persone che sappiano trovare le storie, che le sappiano valorizzare, che le sappiano raccontare, che abbiano quelle competenze e quella malizia anche giornalistica. Otto, come faccio a propormi per iniziare a scrivere per qualche testata anche locale? Tempo fa per la mia newsletter Digital Journalism avevo intervistato alcuni caporedattori italiani facendogli questa domanda. Come vorresti che ti venisse fatta una proposta? Le risposte erano diverse, però tutti concordavano su una cosa. Ok il curriculum, ma mandami delle idee. Perché è un fatto che il curriculum, specie nei lavori umanistici, dà un certo tipo di informazioni, ma non ne dà altre. Quindi banalmente io facevo così. Studiavo la testata, vedevo cosa scriveva, cosa gli interessava, cosa gli mancava. A quel punto raccoglievo due o tre proposte di articolo e scrivevo una mail. Breve autopresentazione, due righe e poi tre proposte. Tre righe per ogni proposta. Punto. Mi raccomando date il titolo. Il direttore cerca il titolo. Se non riuscite a sintetizzare la vostra proposta di notizia in un titolo, significa che ancora non l'avete focalizzata bene. Aspettate. Nove, come mi faccio notare, da una potenziale testata. Anche qui non sono in grado di dare una risposta giusta o sbagliata. Personalmente penso che valga la pena dedicarsi a un progetto proprio. Gli americani dicono sviluppare il proprio brand, che non è un concetto troppo cool o astratto. Significa semplicemente fare delle cose. Il brand sono le cose che fai e magari le mostri. Spesso dico, prendo la mia ossessione e la coltivo. La coltivo in un podcast, in una newsletter, in una pagina Instagram, in un profilo TikTok, in qualsiasi cosa. L'importante è che la coltivo. Una delle decisioni che si sono rivelate più felici professionalmente è stata la creazione di una mia newsletter dedicata appunto ai trend del digitale qualche anno fa. Ci dedico ogni santa settimana un pomeriggio e però si è trasformata in un curriculum 2.0. Cioè ho avuto molte più opportunità di lavoro grazie a quella newsletter che a tutti i curriculum mandati in giro. Perché? Perché con un tuo progetto personale tu dai tante più informazioni e dati di un curriculum a un potenziale datore di lavoro. Mostri le tue abilità tecniche nel riuscire a mettere degli elementi all'interno di una piattaforma e nello sfruttarle, nell'apportarle all'ennesima potenza. La tua visione anche grafica, i tuoi interessi, le tue ossessioni, come trovi le notizie, le storie che ti interessano e soprattutto come le scrivi, qual è il tuo tono di voce. Vedete quante informazioni in un singolo prodotto che poi un potenziale datore di lavoro va a vedere. Conclusione, se avete altre domande scrivetemele qui sotto così magari facciamo una seconda parte ancora più approfondita. La strada è sicuramente difficile, più difficile rispetto ad altri lavori. Però come dico a tutti, se senti questo, se vuoi impegnarti, se senti di volerci dedicare tempo, energie e talento, sbattitene di tutte le raccomandazioni negative e di tutti gli scenari negativi e provaci. Magari riuscirai, magari fallirai, magari ti toglierai qualche soddisfazione, ma nel frattempo ci avrai provato e non avrai rimorsi. E buona fortuna. Magari riuscirai, magari ti toglierai qualche soddisfazione. Magari riuscirai, magari ti toglierai qualche soddisfazione.